Lo skate park era la mia casa. Non aspettavo altro che fuggire da tutto ed andarmene lì. Amici, aria fresca e musica erano diventati il contorno perfetto per quella che oggi resta una delle mie più grandi passioni. Sabato 15 marzo mi presentai, come sempre alle 3.30, al San Luca per fare skate. Quel giorno facevo delle riprese. Un'ora e mezza dopo ero in ambulanza. Il mio ginocchio destro era rotto. Addio legamenti, addio skate, disse un medico. Il periodo successivo a quella notizia non fu affatto facile. Per quanto possa sembrare stupido, quella caduta sembrava avesse mandato in frantumi, oltre al mio ginocchio, le mie ambizioni, i miei sogni. Ben presto però arrivarono delle stampelle nuove, fortissime, in grado di sorreggere perfettamente il mio peso. Gli amici. Capì con loro che la vita è proprio come lo skate. Quando finisci a terra devi rialzarti, perché non sai mai cosa può succederti dopo, e se hai un po' di buona volontà puoi riprenderti. Così dovetti star tranquillo per un po', finché non capì che se avessi voluto tornare sullo skate mi sarei dovuto operare. Le mie giornate gravitavano intorno a quel pensiero. Le stampelle non mi abbandonarono mai, nemmeno quando ripresi a camminare. Finché quel giorno arrivò. Il 4 giugno, alle 10 di mattina, entrai nella sala operatoria. Era finita. Nonostante le critiche dei medici e di molti altri, quattro mesi dopo rimisi piedi sulla stessa tavola che mi aveva fatto perdere l'equilibrio della vita. Non vorrei cambiare quello che è successo, perché non avrei avuto la possibilità di intraprendere un nuovo cammino con più persone di quante non avrei potuto senza una vite e qualche chiodo nel ginocchio.